Il Pipistrello ha il cuore in rosso e blu. La mascotte delle Grotte di Stiffi ha suggellato il patto con l'Aquila 1927. La bellezza naturalistica delle grotte incontra la passione calcistica della squadra del capoluogo. Il Pipistrello sarà sul materiale di allenamento dell'Aquila 1927, nel corner dello store di Corso Vittorio Emanuele e allo stadio. Il settore giovanile che si allenerà nel nuovo impianto sportivo di San Demetrio Nevestini e tante altre collaborazioni in corso d'opera hanno suggellato la nascita della partnership tra Grotte di Stiffi e l'Aquila. Durante l'anno si studieranno ulteriori iniziative per coinvolgere nella nuova partnership sia la prima squadra che i settori giovanili e le famiglie. Nella nuova collaborazione entra a pieno titolo anche il comune di San Demetrio e rappresente il sindaco Antonio Di Bartolomeo che ha messo a disposizione dell'Academy l'Aquila 1927 del settore giovanile il complesso sportivo comunale appena riqualificato. Noi siamo la squadra della gente e la nostra forza viene appunto dalla connessione con il territorio. Questa non è l'unica iniziativa che abbiamo fatto in questa direzione ma è sicuramente un modo per dare la possibilità ai nostri tifosi e ai nostri tesserati di scoprire una parte del territorio aquilano che è un'eccellenza a livello probabilmente mondiale e che magari anche per fretta, per i vitmi di vita quotidiana non tutti nemmeno all'Aquila conoscono. La collaborazione con l'Aquila 1927 come voi sapete è iniziata l'anno scorso, continuerà. Sono molto contento che loro abbiano accettato la nostra collaborazione. Saremo presenti all'interno del Gran Sasso d'Italia, saremo presenti sulle maglie dell'Aquila 1927 ma soprattutto saremo presenti al centro della città dell'Aquila. E questa è una sinergia che volevo, l'ho sempre detto dall'inizio. Noi dobbiamo essere presenti ovunque, dall'Alta Valle dell'Aterno alla Bassa Valle dell'Aterno, dalla Lombardia alla Sicilia. Il pipistrello deve volare ovunque perché solo così potremo raggiungere quei numeri straordinari che abbiamo detto tre anni fa.